Preghiamo! Padre Celeste, grazie per le tue abbondanti benedizioni. Ti ringraziamo specialmente per la tua parola. Che è una guida sicura in un mondo così confuso. Ti chiediamo, ora che studieremo questo passaggio importante da Ebrei 12, versetti da 22 a 24, che il tuo Spirito sia con noi per aprire le nostre menti e i nostri cuori. Signore, rimuovi ogni preconcetto che possiamo avere, affinché possiamo sentire la tua voce. Ti ringraziamo per il privilegio della preghiera e ti ringraziamo perché ci ascolti, perché te lo chiediamo nel prezioso nome di Gesù. Amen. C'è un passaggio nell'Epistola agli ebrei che sembra dire che gli spiriti degli uomini giusti che sono morti siano già in cielo. La visione standard dei protestanti è che questi spiriti siano le anime disincarnate dei giusti deceduti e andati in cielo alla morte. Dobbiamo esaminare attentamente questo punto di vista, esaminando Ebrei, capitolo 12, versetti da 22 a 24, per determinare se questa è l'interpretazione corretta del testo. Prima di farlo dobbiamo considerare la ragione per la quale l'Apostolo Paolo, credo che Paolo abbia scritto l'Epistola agli ebrei, perché scrisse a questi ebrei. L'Apostolo stava cercando di affrontare un problema preciso in questa lettera agli ebrei. Gli ebrei avevano accettato il Vangelo di Gesù Cristo, eppure in quel momento stavano cercando di abbandonare il cristianesimo e di ritornare a quelle che consideravano le ricchezze del giudaismo. Questo è ciò che pensavano. Prima di diventare cristiani, avevamo la gloriosa città di Gerusalemme, con il suo Tempio risplendente, il sacerdozio, i padri, i patti, le promesse. E che cosa abbiamo ora? Tutto ciò che abbiamo ora, dopo aver accettato il messaggio del Vangelo, è persecuzione e opposizione. In questa lettera, l'Apostolo Paolo stava cercando di convincere gli ebrei che il vecchio era buono, ma che il nuovo era di gran lunga migliore. Nel vecchio sistema, le persone erano salvate tramite la fede nel Messia che doveva venire, mentre all'epoca di questa epistola confidavano in un Messia che era già venuto. In sostanza, Paolo stava dicendo agli ebrei se tornate al giudaismo, state tornando a un sistema che non poteva legalmente salvare il peccatore, perché il sangue degli animali e semplici mediatori umani non possono dare salvezza. Questo è il contesto storico dell'Epistola agli ebrei, la ragione per la quale l'Apostolo Paolo scrive a un gruppo generico chiamato gli ebrei. Ora diamo un'occhiata al passaggio che studieremo oggi. Si trova in ebrei, capitolo 12, versetti dal 22 al 24. Leggerò dalla New King James Version e aggiungerò qualche pensiero mentre leggerò. È detto in ebrei 12, 22. Ma voi, gli ebrei viventi in quel momento, vi siete accostati al Monte Sion e alla città del Dio vivente, che è la Gerusalemme celeste, e a miriadi di angeli, all'Assemblea Universale e alla Chiesa dei Primogeniti che sono scritti nei cieli, a Dio, il Giudice di tutti, e agli spiriti dei giusti resi perfetti e a Gesù, il Mediatore del Nuovo Patto e al sangue dell'aspersione che dice cose migliori di quello di Abele. Sto leggendo dalla New King James Version. Consideriamo alcuni aspetti grammaticali di questo passaggio. Prima di tutto, notiamo che il passaggio contiene tre verbi. Il primo verbo è al tempo perfetto, nella forma attiva. Vi siete accostati al Monte Sion. In altre parole, questo è qualcosa che gli ebrei hanno fatto perché è all'attivo. Voi, dice Paolo, vi siete accostati al Monte Sion. Il secondo verbo è un perfetto passivo, tempo perfetto, nella forma passiva, che sono stati scritti in cielo. Qui è qualcun altro che ha scritto i nomi in cielo. Poi il terzo verbo è al tempo perfetto, sempre passivo, e dice dei giusti resi perfetti. In altre parole, qualcun altro li ha resi perfetti. Perciò il primo verbo è attivo. Voi vi siete accostati al Monte Sion, sta dicendo l'Apostolo Paolo. Gli altri due verbi sono nel tempo perfetto, voce passiva. Sono scritti nei cieli e i giusti resi perfetti. Ora, il tempo perfetto riguarda un'azione iniziata nel passato che continua nel presente. Per esempio, se dico ho vissuto a Fresno per 25 anni, è un'azione che è iniziata 25 anni fa, ma che continua fino al presente. Voglio che notiate otto luoghi ai quali gli ebrei si erano accostati fino a quel momento. Si sono accostati al Monte Sion, si sono accostati alla città del Dio vivente, la Gerusalemme celeste, si sono accostati a miriadi di angeli, si sono accostati all'Assemblea universale e alla Chiesa dei primogeniti, si sono accostati a Dio, il giudice di tutti, si sono accostati agli spiriti dei giusti resi perfetti, si sono accostati a Gesù, il mediatore del Nuovo Patto e si sono accostati al sangue dell'aspersione. Notate che non dice che si accosteranno, dice che si sono accostati a questi luoghi menzionati qui specificamente al versetto 22. Non si può non enfatizzare e voglio sottolineare questo punto che il passaggio non dice che gli ebrei si sarebbero accostati in futuro al monte Sion e alla Nuova Gerusalemme. Dice che si sono già accostati al cielo anche se abitavano ancora sulla terra. Potreste chiedervi come è possibile che gli ebrei siano andati in cielo mentre vivevano ancora sulla terra? Lo studioso evangelico George Eldon Ladd ha scritto un libro molto importante molti anni fa intitolato The Presence of the Future nel quale argomentava in modo convincente che i cristiani che vivono ora sulla terra possono godere delle benedizioni del futuro mentre vivono qui. Possiamo bere ora dell'acqua della vita spiritualmente parlando secondo Giovanni 4.13.14 Possiamo mangiare ora dai rami dell'albero della vita Possiamo mangiare ora della manna celeste secondo Giovanni 6 versetti da 48 a 51 Possiamo accostarci ora con fiducia al trono della grazia secondo ebrei capitolo 4 versetti 15 e 16 Perciò gli ebrei erano fisicamente sulla terra ma spiritualmente potevano pregustare le benedizioni del cielo Inoltre i membri della chiesa dei primogeniti menzionati in questo passaggio non erano veramente in cielo Ci viene detto che i loro nomi erano registrati in cielo La parola registrare è la parola greca apografo Compare per esempio in Luca capitolo 2 versetti 3 e 5 per tre volte quando Maria e Giuseppe andarono a Betlemme perché i loro nomi fossero registrati nei libri delle tasse Perciò notiamo che la chiesa dei primogeniti non si trova di fatto in cielo Sono i loro nomi a essere scritti in cielo Paolo parlò di questo in un altro modo quando scrisse che sebbene siamo sulla terra la nostra cittadinanza è nei cieli e la ragione è che i nostri nomi sono scritti nel libro della vita Notate Filippesi capitolo 3 versetti 20 e 21 Filippesi 3 20 e 21 Paolo scrisse La nostra cittadinanza infatti è nei cieli da dove aspettiamo pure il Salvatore il Signor Gesù Cristo il quale trasformerà il nostro umile corpo affinché sia reso conforme al suo corpo glorioso secondo la sua potenza che lo mette in grado di sottoporre a sé tutte le cose Notate che in quei versetti l'Apostolo Paolo ci sta dicendo che la nostra cittadinanza è nei cieli e che siamo sulla terra aspettando con ansia il ritorno di Gesù In altre parole non siamo fisicamente in cielo ma la nostra cittadinanza è in cielo Ho controllato molte traduzioni Alcune versioni dicono la nostra patria è in cielo e molte altre dicono siamo cittadini del cielo In pratica gli ebrei sono sulla terra ma possono essere spiritualmente in cielo Ora in un altro testo Gesù disse ai 70 discepoli che aveva inviato a predicare che non si dovevano vantare perché gli spiriti maligni erano loro sottoposti ma piuttosto perché i loro nomi erano scritti in cielo Notate Luca capitolo 10 versetto 20 Potete vedere qui che i 70 sono sulla terra ma che sono in cielo nel senso che i loro nomi sono scritti nei cieli È detto in Luca capitolo 10 versetto 20 Tuttavia non vi rallegrate del fatto che gli spiriti vi sono sottoposti ma rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli In realtà il tempo del verbo è molto simile a ebrei 12 è tempo perfetto alla forma passiva perciò una traduzione migliore sarebbe rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono stati scritti nei cieli Perciò i 70 erano sulla terra ma i loro nomi erano stati registrati in cielo tra la chiesa dei primogeniti se volete L'apostolo Paolo scrisse anche che possiamo essere seduti con Cristo in cielo pur vivendo ora sulla terra Notate Efesini capitolo 2 versetti da 4 a 6 Efesini 2 4 6 Paolo scrisse Ma Dio che è ricco in misericordia per il suo grande amore con il quale ci ha amati anche quando eravamo morti nei falli ci ha vivificati con Cristo voi siete salvati per grazia e ci ha risuscitati con Lui con Cristo e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù Quindi anche se stiamo camminando sulla terra viviamo sulla terra spiritualmente siamo seduti con Cristo nei luoghi celesti potremmo dire che siamo in due luoghi allo stesso tempo fisicamente sulla terra e tramite la nostra mente e il pensiero spiritualmente seduti con Cristo in cielo Ellen White scrisse un brano molto bello sulla relazione tra la chiesa terrena e la chiesa celeste voglio leggerlo si trova in Councils for the Church pagine 240 e 241 dice così La chiesa di Dio qua giù è una sola cosa con la chiesa di Dio lassù i credenti sulla terra e gli esseri del cielo che non sono mai caduti costituiscono una sola chiesa ogni intelligenza celeste è interessata alle assemblee dei santi che sulla terra si riuniscono per adorare Dio nella corte interna del cielo ascoltano la testimonianza dei testimoni di Cristo nel cortile esterno della terra e la lode e il ringraziamento degli adoratori qua giù vengono ripresi nell'inno celeste e la lode e l'esultanza risuonano nelle corti celesti perché Cristo non è morto in vano per i figli caduti di Adamo mentre gli angeli bevono dalla fonte i santi sulla terra bevono dei ruscelli puri che sgorgano dal trono i ruscelli che rallegrano la città del nostro Dio che affermazione meravigliosa sulla relazione intima tra la chiesa celeste e la chiesa terrena i nomi dei membri di chiesa tra gli ebrei erano scritti nel libro celeste della vita nello stesso modo attenti ora Dio aveva registrato i nomi degli eroi dell'antico testamento menzionati in ebrei undici nel libro della vita in cielo quando avevano creduto sebbene fossero già morti quando Paolo scrisse sebbene fossero già morti quando Paolo scrisse il libro degli ebrei egli li descrisse come già presenti nella nuova Gerusalemme non di persona ma tramite i loro nomi registrati lì in altre parole i nomi dei credenti di quel tempo che erano viventi erano scritti in cielo e gli spiriti dei giusti resi perfetti che vedremo tra un attimo sono gli eroi di ebrei capitolo undici che erano morti anche i loro nomi erano scritti in cielo ora dobbiamo rispondere a tre domande molto importanti la prima domanda è chi sono questi uomini giusti vedremo che la parola uomini non c'è nel testo greco chi sono questi uomini giusti che erano stati resi perfetti quando l'apostolo paolo scriveva la seconda domanda chi sono gli spiriti degli uomini giusti o che cosa sono gli spiriti dei giusti chi sono gli uomini giusti che cosa sono gli spiriti dei giusti e numero tre come sono resi perfetti gli spiriti di questi uomini giusti voglio leggervi un'affermazione che rappresenta la visione protestante standard di questo passaggio la visione protestante è che questo passaggio dimostra che gli spiriti degli uomini giusti che sono morti sono andati in cielo a lodare il signore in cielo un esempio di questo punto di vista è espresso da Robert Mori nel suo libro Death and the Afterlife pagina 213 voglio leggervi questo brano per farvi vedere come il mondo protestante interpreta l'espressione gli spiriti dei giusti resi perfetti è scritto così in questo glorioso quadro descritto dall'autore i santi sulla terra si uniscono all'adorazione che risuona tra le miriadi di angeli e gli spiriti senza corpo dei santi che sono morti questi santi erano stati giustificati per fede mentre erano sulla terra e ora sono perfetti e completi in cielo l'autore sta descrivendo la condizione benedetta dei santi che sono morti e ora adorano Dio davanti al suo trono ed è così chiaro che dobbiamo concordare con i commentatori che questo non può essere messo in dubbio in altre parole il punto di vista che sto esprimendo dimenticatevelo non potete contraddirlo l'affermazione continua i condizionalisti non hanno mai adeguatamente considerato la grammatica e la sintassi di questo passaggio lo faremo noi di nuovo dice i condizionalisti coloro che credono che quando una persona muore sia morta fino al momento della resurrezione non hanno mai adeguatamente considerato la grammatica e la sintassi di questo passaggio perché gli spiriti dei giusti resi perfetti che stanno adorando davanti al trono di Dio sono ovviamente anime coscienti dei credenti nella loro condizione intermedia questa è la visione protestante standard ma vedremo che questa visione non è corretta non ci sono ragioni per dire che gli spiriti dei giusti resi perfetti si riferisca a spiriti o anime disincarnate che sono andate in cielo quando le persone sono morte e siano là in cielo a lodare il Signore rispondiamo prima di tutto alla domanda chi sono gli uomini giusti che erano stati resi perfetti quando l'apostolo Paolo aveva scritto l'epistola agli ebrei dobbiamo ricordarci di due cose prima di rispondere a questa domanda la parola uomini non c'è nel testo greco dice semplicemente ai giusti resi perfetti non c'è la parola uomini e c'è una ragione specifica per questo gli uomini giusti o i giusti che sono menzionati qui sono gli eroi di ebrei undici quindi prima di tutto dobbiamo notare che la parola uomini non c'è sono gli spiriti dei giusti dobbiamo anche considerare un altro punto molto importante la parola giusti i giusti resi perfetti è la stessa parola che viene tradotta con giusto nel nuovo testamento è corretto dire che questi sono i giusti che sono stati resi perfetti la domanda è chi sono questi giusti che sono stati resi perfetti non dobbiamo tirare a indovinare sono gli eroi menzionati in ebrei capitolo undici come facciamo a saperlo i giusti resi perfetti sono la lista d'onore degli eroi dell'antico testamento direte come mai si dice di quattro di loro che erano stati giusti notate ebrei capitolo undici versetto 4 dove Abele è chiamato giusto ebrei undici versetto 7 ci dice che Noè divenne erede della giustizia che si ottiene mediante la fede in altre parole troviamo che Noè fu salvato dalla giustizia ottenuta per fede era giusto se andate nel libro di Giacomo capitolo 2 versetto 23 si parla di Abramo che è stato reso giusto per fede e di Raab resa giusta per fede o da una fede operante nel libro di Giacomo voglio che notiate che queste persone giuste menzionate qui sono quelle di cui si parla in ebrei capitolo undici come dei grandi eroi della fede nell'antico testamento tra questi ci sono Abele Enoch Noè Abramo e perché è importante che non ci sia la parola uomini perché ci sono anche alcune donne menzionate due notate Abele Enoch Noè Abramo Sara Isacco Giacobbe Giuseppe Mosè Raab Gedeone Barac Sansone Iefte Davide Samuele e i profeti quando Paolo scrisse di queste persone giuste erano tutte morte Ora dobbiamo rispondere alla domanda che cosa sono gli spiriti di questi eroi giusti dell'antico testamento Quando le persone nascono e andremo molto più in profondità su questo nella presentazione numero 9 di questa serie non perdetevela vi darò solo un accenno in questa presentazione Quando le persone nascono iniziano a respirare e quando iniziano a respirare iniziano a scrivere la storia della loro vita la loro biografia Insieme alla capacità di respirare la persona sviluppa nel corso della vita un'identità personale o un archivio della vita e Dio registra perfettamente quella vita nei libri celesti le cose buone e le cose cattive che sono state fatte Lo spirito è più del solo respiro Lo spirito è il respiro più l'archivio della vita che Dio ha in cielo la biografia che abbiamo scritto mentre eravamo in vita Questa è la ragione per la quale l'apostolo Paolo poteva usare le parole tu e spirito intercambialmente Notate prima Tessalonicesi capitolo 5 versetto 28 prima Tessalonicesi 5 28 Qui l'apostolo Paolo sta concludendo la sua epistola ai Tessalonicesi e dice La grazia del Signor nostro Gesù Cristo sia con voi Amen Ma in Galati capitolo 6 versetto 18 alla fine dell'epistola i Galati dice Fratelli la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con il vostro spirito Amen Perciò lo spirito sei tu Lo spirito non è un'entità invisibile che vola su al momento della morte È l'archivio della vita o l'identità della persona La registrazione della vita della persona è ciò che la Bibbia descrive come i libri in cielo che Dio tiene mentre noi viviamo Scrive in cielo una biografia una biografia completa di chi siamo nella vita Voglio leggervi un'affermazione dagli scritti di Ellen White È un'affermazione potente su che cosa sia lo spirito Ancora una volta lo ripeto lo spirito non è un'entità invisibile che vive separata dal corpo e se ne va alla presenza del Signore al momento della morte Lo spirito è il respiro più l'archivio della vita della persona Consideriamo questa affermazione dal libro Maranata pagina 301 È un devozionale che Ellen White ha scritto Affermazione molto importante Ricordate nella presentazione numero 9 ci occuperemo molto di più di questo punto Questo è ciò che ha scritto La nostra identità personale è conservata nella risurrezione Perché? Perché Dio preserva la nostra identità in cielo La nostra identità personale è conservata nella risurrezione anche se non le stesse particelle di materia o sostanza materiale che sono entrate nella tomba Le opere meravigliose di Dio sono un mistero per l'uomo Ascoltate attentamente Lo spirito virgola il carattere dell'uomo virgola viene restituito a Dio per essere conservato Che cos'è lo spirito? Lo spirito è il carattere dell'uomo l'archivio della vita che Dio tiene in cielo ciò che abbiamo scritto durante la nostra vita Continua dicendo Nella risurrezione ogni uomo avrà il proprio carattere Perché? Perché alla risurrezione Dio ci ridarà l'identità che ha preservato in cielo insieme al respiro Ancora una volta Nella risurrezione ogni uomo avrà il proprio carattere Dio a suo tempo richiamerà i morti ridando loro il soffio della vita e facendo vivere le ossa secche La forma sarà la stessa ma priva di malattie e di ogni difetto Rivivrà con le stesse caratteristiche individuali così che l'amico riconoscerà l'amico Non c'è alcuna legge di Dio in natura che dimostri che Dio restituisce le stesse identiche particelle di materia che componevano il corpo prima della morte Dio darà ai morti giusti un corpo che gli piacerà Per inciso Dio ha anche una trascrizione perfetta o archivio scritto anche dei malvagi non solo dei giusti Sapete quando la Bibbia parla dei libri si riferisce all'archivio della nostra vita che Dio ha in cielo Quando Gesù risusciterà i santi che sono morti ridarà loro non solo la capacità di respirare ma ridarà loro l'archivio della vita che aveva in cielo È un unico pacchetto il respiro che include l'archivio della vita e quando la persona resuscita è la stessa persona che è morta parte il fatto che avrà un corpo immortale e incorrottibile La stessa cosa avviene per i malvagi Notate questa straordinaria affermazione che troviamo nel Gran Conflitto pagina 519 sui malvagi che saranno fuori dalla santa città dopo il millennio dopo i mille anni Ellen White li descrive Fra essi vi sono re e generali che vinsero nazioni uomini valorosi che non persero neppure una battaglia guerrieri prodi e ambiziosi il cui avvicinarsi faceva tremare i regni la morte non li ha cambiati uscendo dalla tomba essi riprendono il corso dei loro pensieri là dove lo avevano interrotto quindi Dio metterà in quei corpi che resusciteranno l'archivio della loro vita e ricominceranno da dove erano rimasti continua dicendo e sono animati dallo stesso desiderio di conquista che avevano quando morirono così alla risurrezione Dio ridarà ai giusti e ai malvagi il carattere che avevano in vita insieme all'alito vitale in altre parole lo spirito è il respiro insieme all'identità o archivio della vita perciò che cos'è lo spirito che cosa si intende con gli spiriti dei giusti si riferisce agli archivi celesti degli eroi dell'antico testamento sono gli individui giusti che sono qui menzionati in ebrei 12 versetti da 22 a 24 gli spiriti non sono entità intangibili che sono andate in cielo al momento della morte gli spiriti sono gli archivi che Dio aveva preservato delle vite del suo popolo dei fedeli ora in quale senso l'archivio della vita degli eroi giusti è stato reso perfetto questa è la nostra terza domanda ed è molto importante che cosa abbiamo visto fino ad ora abbiamo visto che lo spirito è l'archivio celeste della vita o il carattere di una persona che Dio preserva in cielo in secondo luogo abbiamo visto che in qualche modo l'archivio della vita di questi eroi giusti dell'antico testamento doveva essere reso perfetto e numero 3 come Dio ha reso perfetto l'archivio della vita di questi santi dell'antico testamento c'era qualcosa di imperfetto nel loro archivio direte che cosa c'era di imperfetto prima di tutto dobbiamo esaminare la parola perfetto negli ebrei così come viene applicata alla missione al ministero di Cristo andiamo in ebrei capitolo 2 versetto 10 vedete stiamo facendo quello che Robert Mori diceva che dovremmo fare stiamo considerando la grammatica stiamo considerando la sintassi stiamo considerando il significato delle parole stiamo considerando diverse cose per vedere ciò che il passaggio sta veramente insegnando notate ebrei capitolo 2 versetto 10 ci viene detto che Gesù è stato reso perfetto tramite sofferenze è detto qui conveniva infatti a colui per il quale e per mezzo del quale sono tutte le cose nel portare molti figli alla gloria siamo noi di rendere perfetto per mezzo di sofferenze l'autore della salvezza Gesù è stato reso perfetto tramite le sofferenze secondo il testo e in questo modo è diventato l'autore della nostra salvezza dobbiamo capire una cosa la parola perfetto qui non indica che Gesù fosse moralmente imperfetto e che sia diventato moralmente perfetto tramite le sofferenze l'espressione rendere perfetto qui indica quello che Gesù doveva fare per diventare qualificato a salvarci doveva vivere una vita perfetta e doveva soffrire e morire per essere qualificato o perfezionato per essere in grado di salvarci un'altra volta in ebrei capitolo 5 versetti da 7 a 9 troviamo che Gesù è stato reso perfetto ubbidendo al padre e rimanendo fedele nelle sue prove leggiamo ebrei capitolo 5 versetti da 7 a 9 nei giorni della sua carne cioè quando era sulla terra con grandi grida e lacrime egli offrì preghiere e supplicazioni a colui che lo poteva salvare dalla morte questo è ciò che fece nel Gezzemani stava offrendo preghiere e supplicazioni con grandi grida e lacrime al padre che lo poteva salvare dalla morte continua dicendo fu esaudito a motivo del suo timore di Dio benché fosse figlio imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì e reso perfetto avete notato dice imparò imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì e reso perfetto tramite le sue sofferenze e l'ubbidienza divenne autore di salvezza eterna per tutti coloro che gli ubbidiscono cioè le sofferenze di Gesù e la sua ubbidienza erano necessarie perché potesse diventare l'autore della nostra salvezza per essere qualificato per salvarci anche in ebrei 7.28 c'è la parola perfetto riferita a Cristo in ebrei capitolo 7 versetto 28 è detto la legge infatti costituisce come sommi sacerdoti uomini soggetti a debolezza ma la parola del giuramento che viene dopo la legge costituisce il figlio reso perfetto in eterno ancora una volta devo sottolineare che la parola perfetto nel libro degli ebrei quando è riferita a Cristo non indica perfezione morale del carattere Gesù non era imperfetto e non doveva essere reso perfetto la parola perfetto descrive ciò che Gesù doveva fare per diventare il nostro completo salvatore tramite la sua vita sofferenze e morte Gesù diventò qualificato o fu perfezionato a salvarci dal peccato che cosa è successo a Gesù ci aiuterà a capire il perfezionamento degli spiriti dei giusti che sono menzionati in ebrei capitolo 12 in ebrei capitoli da 7 a 9 troviamo il contrasto tra il vecchio sistema di sacrifici con il nuovo i sacrifici dell'antico testamento erano incompleti in altre parole non erano perfetti perché non potevano legalmente salvare il peccatore perché il sangue di tori e di capri non può togliere il peccato secondo ebrei capitolo 10 versetto 4 mentre il vecchio sistema non poteva perfezionare legalmente il credente il nuovo sistema può perfezionare il credente perché il nuovo sistema ha un sangue migliore notate diversi passaggi da ebrei da 7 a 10 per capire questo concetto andiamo in ebrei 7 e leggeremo il versetto 11 il versetto 19 e il versetto 25 dice se dunque ci fosse stata la perfezione mediante il sacerdozio levitico perché sotto quello fu data la legge al popolo che bisogno c'era che sorgesse un altro sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec e non designato invece secondo l'ordine di Aronne la legge infatti non ha portato nulla a compimento è l'introduzione di una migliore speranza mediante la quale ci accostiamo a Dio spero che comprendiate questo passaggio è molto chiaro sta dicendo che il vecchio sacerdozio levitico non poteva dare perfezione ci viene detto che abbiamo bisogno di un sacerdote migliore che dà perfezione non sta parlando di perfezione morale sta parlando del peccato che è legalmente perdonato individui che vengono legalmente salvati il vecchio sistema non poteva salvare legalmente il nuovo sistema sotto Cristo può salvare legalmente il peccatore perché ha sangue migliore dice la legge cioè il sistema sacrificale dell'antico testamento non ha portato nulla a compimento ma ora abbiamo una speranza migliore perché Gesù rende perfetto egli perdona legalmente il peccato andiamo in ebrei capitolo 9 versetti da 9 a 12 è detto qui il quale si capisce che è il sistema dell'antico testamento il quale il vecchio sistema è una figura per il tempo presente e voleva indicare che i doni e i sacrifici offerti non potevano rendere perfetto nella coscienza colui che faceva il servizio divino in altre parole la persona aveva ancora la consapevolezza del peccato perché il sangue dell'antico sistema non poteva togliere legalmente il peccato leggiamo nuovamente dall'inizio del versetto il quale è una figura per il tempo presente e voleva indicare che i doni e i sacrifici offerti non potevano rendere perfetto nella coscienza colui che faceva il servizio divino il servizio antico ora ora ne dà la ragione trattandosi solo di cibi di bevande di varie abluzioni e di ordinamenti carnali imposti fino al tempo del cambiamento in altre parole tutte queste cose sono esistite fino al tempo del cambiamento cioè fino a quando Cristo è venuto notate il versetto 11 ma ora c'è il contrasto parla del nuovo sistema ma Cristo essendo venuto come sommo sacerdote dei beni futuri del nuovo patto attraverso un tabernacolo più grande e più perfetto non fatto da mano d'uomo cioè non di questa creazione entrò una volta per sempre nel santuario non con sangue di capri e di vitelli ma col proprio sangue avendo acquistato una redenzione eterna nel sistema dell'antico testamento le persone non potevano avere la certezza assoluta che i loro peccati erano legalmente perdonati perché il sangue di toria e di capri non può togliere il peccato era solo sulla base della promessa che Gesù avrebbe offerto il suo sangue simboleggiato dal sangue dell'animale che avrebbe rimosso il peccato legalmente una volta per tutte andiamo in ebrei capitolo 10 versetti da 1 a 4 poi leggeremo anche i versetti 11 12 e 14 e il versetto 18 li vedrete sullo schermo per sapere quale versetto sto leggendo leggiamo ebrei capitolo 10 versetto 1 la legge infatti il sistema dell'antico testamento avendo solo l'ombra dei beni futuri e non la realtà stessa delle cose in altre parole non la realtà ma l'ombra non può mai rendere perfetti quelli che si accostano a dio con gli stessi sacrifici che vengono offerti continuamente anno dopo anno in altre parole questi sacrifici non potevano legalmente perdonare i peccati notate il versetto 2 altrimenti si sarebbe cessato di offrirli cioè se questi sacrifici avessero perdonato veramente il peccato perché offrirli offrirli ancora e ancora continua dicendo perché gli adoratori una volta purificati non avrebbero avuto più alcuna coscienza dei peccati in quei sacrifici invece si rinnova ogni anno il ricordo dei peccati poiché è impossibile che il sangue di tori e di capri tolga i peccati versetto 11 e mentre ogni sacerdote è in piedi ogni giorno ministrando e offrendo spesse volte i medesimi sacrifici che non possono mai togliere i peccati e ora arriva il contrasto versetto 12 egli invece dopo aver offerto per sempre un unico sacrificio per i peccati si è posto a sedere alla destra di Dio ora notate il versetto 14 con un'unica offerta infatti egli ha reso perfetti per sempre coloro che sono santificati in altre parole i peccati registrati degli eroi dell'antico testamento sono stati legalmente perdonati quando Gesù è venuto e ha versato il suo sangue versetto 18 ora dove c'è il perdono di queste cose non c'è più offerta per il peccato non ci sono più offerte per il peccato dopo l'offerta che fece Gesù il sangue e il sacerdote dell'antico sistema non potevano gestire in modo definitivo il peccato perché la routine veniva ripetuta anno dopo anno dopo anno se avesse risolto definitivamente il peccato perché si dovevano offrire 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 ancora i sacrifici Gesù offrì un sacrificio e tutti i peccati degli ebrei degli ebrei menzionati al capitolo 11 sono stati legalmente perdonati in quel momento particolare erano perdonati nell'antico testamento solo in base alla promessa l'apostolo Paolo lo dice in maniera diversa notate Romani 3 25 26 ma sono gratuitamente giustificati per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù lui ha Dio preordinato per far l'espiazione mediante la fede nel suo sangue ora notate cosa avviene quando Gesù offre il suo sangue per dimostrare così la sua giustizia per il perdono dei peccati che sono stati precedentemente commessi durante il tempo della pazienza di Dio Dio ha avuto pazienza per i peccati precedentemente commessi nel senso che non erano legalmente perdonati perché sarebbero stati perdonati legalmente quando Gesù avrebbe sparso il suo sangue alla croce così dice che sono stati precedentemente commessi durante il tempo della pazienza di Dio per manifestare la sua giustizia nel tempo presente affinché egli sia giusto e giustificatore di colui che ha la fede di Gesù voglio leggere anche Colossesi capitolo 2 versetti 13 e 14 leggo dalla English Standard Version dice con lui Dio ha dato vita anche a voi che eravate morti per i vostri peccati e per l'incirconcisione della vostra carne perdonandoci tutti i peccati come ci ha perdonato i nostri peccati annullando il documento scritto del nostro debito le cui condizioni c'erano sfavorevoli egli lo ha tolto di mezzo inchiodandolo alla croce in altre parole tutte le cambiali dell'Antico Testamento per le quali ogni sacrificio diceva Gesù dice pagherò pagherò l'Antico Testamento era un sistema di cambiali per ogni sacrificio che la persona offriva per fede Gesù diceva pagherò pagherò nel futuro ma non erano legalmente perdonati nel periodo dell'Antico Testamento ora consideriamo un altro punto che ci aiuterà a capire questo passaggio ebrei capitolo 12 versetto 24 un altro versetto che credo sia stato tradotto male la maggior parte delle traduzioni bibliche traduce ebrei 12-24 erroneamente assumono che il contrasto in questo versetto sia tra il sangue di Abele che Caino ha versato e il sangue che Gesù ha versato sulla croce in altre parole l'idea è che il sangue di Abele grida giustizia e che il sangue versato da Gesù fornisce la giustizia ecco un esempio di questa idea dalla New Living Translation ebrei 12-24 nella New Living Translation dice vi siete avvicinati a Gesù stesso che ci ha portato il suo nuovo patto meraviglioso al suo sangue sparso che porta il perdono anziché gridare vendetta come quello di Abele il contrasto è tra il sangue che Abele ha sparso e il sangue che Gesù ha sparso il problema è che queste traduzioni aggiungono parole che non sono presenti nel testo l'espressione di quello di non c'è nell'originale greco è stata aggiunta dai traduttori notate ebrei 12-24 nella King James Version è al mediatore della nuova alleanza Gesù e all'aspersione di quel sangue che parla meglio che Abele in altre parole non è che parla meglio del sangue di Abele non dice che parla meglio di quello di Abele ma dice che il sangue dell'aspersione parla meglio di Abele così dice il greco direte per chi è importante? il sangue sacrificale che Gesù ha offerto è meglio del sacrificio che Abele ha offerto perché? perché il sangue che Abele ha offerto non poteva togliere legalmente il peccato ma il sangue di Gesù Cristo può togliere il peccato in altre parole in base al contesto questo testo non sta mettendo in contrasto il sangue di Abele che Caino ha sparso con il sangue che Gesù ha sparso in realtà sta mettendo in contrasto il sangue del sacrificio di Abele con il sangue del sacrificio di Cristo notate come Albert Barnes il celebre commentatore presbiteriano spiega qui il significato qui è che il sangue di Gesù dice cose migliori di Abele cioè il sangue di Gesù è la realtà del quale l'offerta di Abele era un tipo tramite il sacrificio che offriva Abele proclamò la grande verità della salvezza che poteva arrivare solo tramite un'offerta con sangue ma fece questo solo in modo simbolico e oscuro Gesù lo ha proclamato in modo più chiaro e migliore tramite la realtà potente in altre parole nel contesto il contrasto è tra il vecchio sistema che non era in grado di togliere il peccato e il nuovo sistema che è in grado di togliere legalmente il peccato in altre parole gli spiriti dei giusti resi perfetti significa che il loro archivio celeste nel quale i loro peccati erano perdonati sulla base della promessa della venuta di Cristo quell'archivio è stato reso perfetto quando Gesù ha versato il suo sangue ora erano legalmente qualificati per essere salvati tutti questi eroi dell'antico testamento sono morti senza aver ricevuto il messia promesso l'archivio della loro vita era imperfetto o incompleto perché Gesù la realtà non era ancora venuto perciò l'apostolo Paolo state attenti l'apostolo Paolo scrisse che non hanno ricevuto la promessa del messia ecco perché non erano perfetti i loro archivi non erano perfetti perché Gesù non era ancora venuto a versare il sangue che poteva legalmente perdonare il peccato notate ebrei capitolo 11 versetto 39 eppure tutti costoro sono gli eroi del capitolo 11 eppure tutti costoro pur avendo avuto buona testimonianza mediante la fede non ottennero la promessa alcuni dicono che sta parlando della terra promessa non sta parlando della terra promessa molti di questi eroi si trovavano già nella terra promessa non si riferisce alla terra promessa quando dice che non ricevettero la promessa vuol dire che sono morti prima che Gesù venisse la promessa è la promessa della venuta di Gesù notate questo tuttavia Paolo dice agli ebrei che Dio ha dato loro qualcosa di migliore che agli eroi dell'antico testamento infatti gli eroi dell'antico testamento non potevano essere resi perfetti senza gli ebrei che erano vivi in quel momento notate il versetto 40 di ebrei capitolo 11 perché Dio aveva provveduto per noi sono gli ebrei viventi qualcosa di meglio affinché essi sono gli eroi dell'antico testamento non giungessero alla perfezione senza di noi in altre parole dovevano essere resi perfetti insieme perché il sangue di Gesù era stato versato mi piace come è espresso nella New Century Version Dio ha pianificato di darci qualcosa di migliore in modo che fossero resi perfetti ma solo insieme a noi cos'è questo qualcosa di migliore che ha permesso agli eroi dell'antico testamento di essere perfezionati o qualificati per la salvezza insieme agli ebrei dei giorni di Paolo il libro degli ebrei dà una risposta inequivocabile gli eroi dell'antico testamento vivevano nel periodo dell'ombra mentre gli ebrei vivevano nel periodo della realtà a cui quelle ombre puntavano e il sangue di Gesù perfeziona l'archivio di entrambi perché i loro peccati sono perdonati legalmente vedete che cosa succede quando studiamo la grammatica la sintassi il vocabolario e il contesto il significato diventa chiaro non sono le anime le anime disincarnate dei morti che sono in cielo a lodare il Signore no abbiamo a che fare chiaramente con l'archivio delle loro vite dove i loro peccati sono legalmente perdonati dal sangue di Gesù facciamo un esempio reale dello scenario che abbiamo visto in questo passaggio Mosè è uno degli eroi principali menzionati in Ebrei 11 il racconto ispirato contiene alcuni dettagli strani sulla morte di Mosè infatti ci sono due dettagli strani quando leggiamo della morte di Mosè andiamo in Deuteronomio capitolo 34 versetti 5 e 6 dice ora notate notate questo e l'Eterno lo seppellì Dio lo seppellì lo seppellì nella valle del paese di Moab di fronte a Bet Peor e nessuno ha conosciuto fino a oggi il luogo della sua tomba questo è strano perché gli ebrei segnavano le tombe dei loro eroi ma nessuno sapeva dove fosse sepolto Mosè due stranezze sulla morte di Mosè primo Dio lo ha sepolto è l'unica persona nella Bibbia che Dio ha sepolto e secondo nessuno sapeva dove fosse la sua tomba e nel libro di Giuda ci viene detto che dopo che Mosè morì e fu sepolto ci fu una battaglia sulla sua tomba è descritta in Giuda 9 leggiamo Giuda 9 invece l'arcangelo Michele quando in contesa col diavolo disputava intorno al corpo di Mosè non usò lanciargli contro un giudizio oltraggioso ma disse ti sgridi il Signore sulla tomba di Mosè c'è stata questa battaglia tra Michele e il diavolo e viene detto che disputavano sul corpo di Mosè su che cos'era questa disputa Gesù e Satana combattono sempre sui cadaveri certo che no c'era qualcosa di più profondo che stava accadendo qui Michele era venuto per chiamare Mosè fuori dalla tomba voglio leggervi un'affermazione molto interessante in realtà voglio dirvi esattamente com'è successo Satana stava dicendo a Michele Mosè ha peccato quando ha ucciso l'egiziano e quando ha colpito due volte la roccia e il salario del peccato e la morte dalla quale non c'è risurrezione perciò Mosè è mio posso solo immaginare quello che Michele avrà risposto avrà detto sì è vero non nego che Mosè abbia peccato uccidendo l'egiziano e che Mosè abbia peccato colpendo la roccia due volte ma Mosè si è pentito e aveva fede nel Messia futuro nel sangue che il Messia avrebbe versato e Satana diceva quale sangue il Messia non è ancora venuto il Messia non ha ancora sparso il suo sangue perciò i peccati di Mosè non possono essere perdonati se il Messia non ha versato il suo sangue e Michele ha risposto sì ma il Messia verserà il suo sangue e quindi risusciterò Mosè e lo salverò sulla base della promessa che quel sangue sarà versato un giorno la disputa era sul diritto di Michele di risuscitare Mosè perché il prezzo per il perdono non era ancora stato legalmente pagato l'archivio della vita di Mosè non era ancora stato reso perfetto in cielo sappiamo che Mosè è risuscitato perché è poi apparso a Cristo sul monte della trasfigurazione direte come facciamo a sapere che la disputa era sul fatto che Michele potesse risuscitare Mosè oppure no lo sappiamo perché poi Mosè sarebbe apparso a Cristo sul monte della trasfigurazione come sarebbe potuto apparire a Cristo sul monte della trasfigurazione se non fosse stato risuscitato direte come facciamo a sapere che Mosè è apparso a Gesù sul monte della trasfigurazione notate Luca capitolo 9 versetti 30 e 31 dice e mentre egli pregava mentre Gesù pregava l'aspetto del suo volto cambiò e la sua veste divenne candida e sfolgorante ed ecco due uomini parlavano con lui essi erano Mosè ed Elia i quali apparsi in gloria parlavano della sua dipartita che stava per compiersi a Gerusalemme stavano parlando con Gesù della sua morte a Gerusalemme senza dubbio inviati dal padre per incoraggiare Gesù ad andare avanti fino alla morte dicendo se lo farai tutti i peccati che erano stati confessati nell'Antico Testamento che non erano stati legalmente perdonati dal sangue di tori e capri saranno legalmente perdonati e gli archivi dei santi dei santi giusti saranno perfezionati o completati nel periodo dell'Antico Testamento Mosè sperimentò la salvezza solo sulla base della promessa del Redentore che sarebbe venuto Satana discuteva che Cristo non aveva ancora pagato il prezzo della redenzione e perciò Mosè era suo a pieno diritto Ellen White scrisse in primi scritti pagina 156 le seguenti parole Mosè morì ma l'arcangelo Michele scese e gli ridiede la vita prima che il suo corpo si corrompesse Satana si oppose sostenendo che quel corpo appartenesse a lui ma Michele risuscitò Mosè e lo portò in cielo Satana si adirò contro Dio accusandolo di essere ingiusto perché aveva permesso che gli fosse sottratta la sua vittima ma Cristo non rimproverò l'avversario nonostante il servitore di Dio fosse caduto a causa della sua tentazione con dolcezza affidò il caso al padre dicendo il Signore ti rimproveri voglio leggere voglio leggere un ultimo passaggio che abbiamo già letto e per inciso è stato letto in quasi ogni funerale al quale sono stato presente e parla della risurrezione dei giusti alla seconda venuta di Cristo andiamo in prima Tessalonicesi capitolo 4 15 17 avete visto che in Giuda 9 Michele è chiamato l'arcangelo Michele l'arcangelo Michele questo è importante colui che è venuto a risuscitare Mosè è stato l'arcangelo Michele direte per chi è importante chi Michele prima Tessalonicesi 4 versetti da 15 a 17 ora vi diciamo questo per parola del Signore noi viventi che saremo rimasti fino alla venuta del Signore non precederemo coloro che si sono addormentati i giusti viventi al ritorno di Gesù non andranno in cielo prima di coloro che sono morti continua perché il Signore stesso chi è il Signore stesso? il Signore stesso ovviamente è Gesù Cristo il Signore stesso con un potente comando adesso ascoltate bene con voce di arcangelo e con la tromba di Dio discenderà dal cielo aspettate chi è l'arcangelo che ha resuscitato Mosè? è chiamato l'arcangelo Michele qui viene detto che il Signore stesso discende dal cielo con un potente comando con voce di arcangelo la persona che ha resuscitato Mosè altro non era se non Gesù Cristo di nuovo il versetto 16 dice perché il Signore stesso con un potente comando con voce di arcangelo e con la tromba di Dio discenderà dal cielo e quelli che sono morti in Cristo risusciteranno per primi poi noi viventi che saremo rimasti saremo rapiti assieme a loro sulle nuvole per incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore abbiamo studiato questo passaggio in Ebrei 12 attentamente esaminando il contesto immediato il contesto allargato la sintassi abbiamo controllato la grammatica abbiamo visto il contesto storico nel quale Paolo scrisse agli Ebrei abbiamo fatto tutto questo e abbiamo visto che non ci sono ragioni per pensare che gli spiriti dei giusti resi perfetti si riferiscano ad anime che volano in cielo al momento della morte per andare lassù a lodare il Signore tra l'altro non avrebbero potuto essere resi perfetti allora perché saranno perfetti solo quando risusciteranno dai morti quindi come può l'anima volare in cielo ed essere resa perfetta come anima disincarnata la perfezione la perfezione fisica viene quando Gesù ritornerà la seconda volta e cambierà questo corpo corruttibile in un corpo incorruttibile come il suo questo corpo mortale in un corpo immortale simile a quello di Gesù Cristo amici dobbiamo stare attenti a non inserire nel testo le nostre idee preconcette se credo che l'anima lasci il corpo alla morte è pericoloso per me dire ok ora dimostrerò ciò che credo con la Bibbia dobbiamo andare alla Bibbia per capire ciò che Dio vuole che crediamo e non imporre i nostri punti di vista alla Bibbia possa Dio benedirvi e ho fiducia che in quel gran giorno saremo con tutti i santi nel Regno Celeste per la Bibbia